Un saluto dal mago Fletcher e dal gatto con gli stivali appena tolti. Ma non siamo qui oggi per parlare di gatti, bensì di topi. Vi mostrerò una bellissima scultura di palloncini a forma di topo. Prendiamo la pompettina e un palloncino. Confiamo per circa una spanna il palloncino. La prima cosa che faremo sarà realizzare il musetto. Dobbiamo quindi creare tre piccole palline. Questo è il musetto del topolino. Altre tre piccole palline che saranno le zampette del topolino. E questa parte qui è il corpicino. Inseriamo la coda tra le gammine. Tiriamo. Aggiustiamo. E abbiamo realizzato un bellissimo topolino in scultura di palloncini. Vi lascio con un bellissimo palindromo inerente ai topi, ovvero una parola che si può leggere da sinistra verso destra, ma anche da destra verso sinistra. I topi non avevano nipoti. Vi lascio con un bellissimo palindromo inerente ai topi,